Ben tornati in diretta, allora io ho avuto già il piacere di fare, di scambiare due chiacchiere con l'autore di questo libro, eccolo qua, l'architetto, stavo per dire professore, ma in Italia, insomma si è professori, giustamente mi ricordava se si ha proprio la cattedra, no? Ecco, però lui si chiama Marco Pietro Lucci, il libro è La città del grande raccordo anulare, ben trovato. Nella controcopertina, insomma, però si legge di una serie di riconoscimenti che lei ha avuto di un'intensa attività all'Università Roma 3, allora la prima domanda, banale, sarà probabilmente perché arrivare a fare un libro completo, poi entreremo nel dettaglio, insomma, su quella che lei ricorda la più grande infrastruttura metropolitana italiana? Ma per una ragione molto semplice, che mancava questo tassello nella storiografia di Roma, ma pure ricchissima, perché è una città molto studiata da tutti, non solo dagli italiani, ma anche dagli europei, per inciso. La lingua italiana, come sappiamo, non è una lingua diffusa nel mondo, ma tra gli architetti di un certo livello, di un certo calibro, si parla italiano, cioè gli architetti europei vengono a studiare a Roma, in Italia, imparano la nostra lingua e quindi tra di noi si parla italiano, è una lingua diffusa. Dovremmo ricordarlo di più questo? Io penso di sì, è una cosa importante che si sa poco, siamo certamente stati un punto di riferimento per molti secoli nella cultura europea e ancora oggi vengono nel nostro paese e studiano quello che abbiamo fatto. Esce contemporaneamente, diciamo, sono due cose completamente diverse, però lei come ha appreso del successo cinematografico del Sacro Grano, che va sulle storie umane, particolari? Sì, mi ha fatto ovviamente molto piacere, è stata una concomitanza non voluta, però assolutamente piacevole. No, io, diciamo, il taglio del libro è completamente diverso da quello del film, soprattutto perché, come ricordavo prima, mancava, diciamo, un tassello storiografico fondamentale, secondo me, nella cultura urbana e nella conoscenza della città, che riguarda proprio il raccordo anulare, cioè non si era mai scritto nulla sulla strada, sulla sua realizzazione, sulla sua costruzione, sul perché è stata realizzata, quando, con quali finanziamenti, ed è un tassello importante, perché la strada poi, nel corso appunto degli anni, sono circa 60, è diventata la principale, possiamo dire, arteria della Roma contemporanea. Sul raccordo transitano 160.000 veicoli al giorno, per dare un riferimento, sulla Roma-Firenza è 45.000, quindi una specie di giostra infernale, nella quale i romani, e non solo i romani, girano per... C'è una cosa che, quando andiamo a leggere anche la storia, mi è sempre colpito, dice nel 1946 iniziarono i lavori e poi le cronache, ci vollero 5 anni per realizzare il raccordo anulare, figuriamoci oggi per realizzare... No, molto di più, dal 1946 l'anello, un'altra cosa che viene fuori, diciamo, da questa analisi dei documenti, perché sono ritornato alle fonti, non essendo stato scritto niente prima, l'anello in realtà è una sommatoria di bretelle, io ho trovato che manca il progetto unitario dell'anello, e quindi l'anello si configura, diciamo, come un insieme di parti, coordinate ovviamente, ma non c'è un progetto ufficiale per il raccordo anulare come, diciamo, struttura unitaria. Questa grande opera, la vediamo se riesco a, così, cercare di cogliere, credo, i passaggi forse più importanti, questa grande opera, che ancora oggi, insomma, è una fondamentale, un fondamentale assoviario, realizzata, intendevo dire prima, in realtà, visti i tempi moderni, attuali, no, la metro C, insomma, molto velocemente, però non è stata mai pensata come, diciamo, mai messa a sistema con la capitale, tant'è che lei a un certo punto spiega molto bene, architetto, quando la distanza dal centro di Roma, dice, 10 chilometri, sono troppi rispetto a Parigi e ad altre circonvallazioni, insomma, intorno alle città. perché all'epoca non si pensò a questo? Perché non si immaginava poi la futura estensione della città o perché proprio il Comune non aveva una parte principale e mai l'ha avuta nella gestione del raccordo? Il Comune non ha mai avuto e non ha ancora la gestione del raccordo che è dell'ANAS e quindi c'è anche un problema giurisdizionale di competenza molto importante e non risolto. che ha impedito agli estensori del nuovo piano regolatore del 2008 di definire un ambito strategico intorno al raccordo anulare, cioè un programma chiaro di quello che si può, si deve realizzare, un programma con degli obiettivi chiari che rendano chiara la città che verrà costruita nei prossimi anni. Nessuno ha questa, diciamo, chiarezza. Adesso per molti, a parte il problema del traffico diventa croce per quello, ma per molti noi viviamo ogni giorno, ascoltiamo i telespettatori romani su quelli che sono i servizi, magari mancati i servizi, i problemi. In realtà è come se fosse una barriera, molti nell'immaginario dicono ancora io sto fuori dal raccordo e quindi vengo penalizzato, dopodiché invece l'estensione edilizia ha fatto sì che la città si unisse, si ricollegasse. Quindi oggi il raccordo anulare è una fortuna per i romani o c'è anche questo aspetto un po' di barriera? È certamente una barriera ancora. Basta pensare che è classificato come un'autostrada, cioè noi siamo in questa condizione oggi a Roma, di un'autostrada, un'autostrada nel vero senso della parola, che attraversa la città. Quindi c'è il problema di una sua riclassificazione perché il raccordo anulare nei prossimi anni, specie nel settore orientale dove è stata più forte la crescita della città, dovrà essere trasformato in una strada diciamo urbana, quindi anche percorsa da mezzi pubblici, da trasporti pubblici, trasformata in un boulevard urbano. E questo è uno dei punti che cerca di... E come si può arrivare a questo? Eh bisogna assolutamente aprire un tavolo con la municipalità, a Roma c'è un nuovo governo, un nuovo sindaco e ripensare questo ruolo del raccordo rispetto alla città che negli ultimi 50 anni è cresciuta intorno e che gravita intorno al raccordo. Ecco, un dato per esempio che ho messo in evidenza è che nell'ambito considerato, io ho considerato un ambito di 4 chilometri, due interni e due esterni rispetto diciamo al tracciamento della strada, in questo ambito vivono circa un milione di romani, calcolando che Roma è circa due milioni e mezzo, due milioni e otto, è una bella fetta dei romani. Sì, sì, una bella fetta dei romani. Ci sono delle foto tra l'altro bellissime, insomma, in bianco e nero, da veramente... Ci sono delle foto inedite. Ecco, inedite, mi spiace non mostrarvele, insomma, Cangemi Editore ha editato questo libro, è veramente da tenere nella biblioteca, no? Di ogni uso, personale. personale. Andiamo proprio alle origini, dove lei ha trovato queste fonti che, mi piacerebbe raccontasse, fa capire, non lavoravano soltanto gli operai edili. C'erano tutta una serie di categorie. Ecco, ci racconti un attimo questi albori, credo... Dunque, il raccordo, un'altra cosa che non si sa è che il raccordo è la prima grande opera pubblica dell'Italia repubblicana, perché i lavori cominciano nel 1946, cioè circa due anni prima della nostra Costituzione repubblicana, no? Quindi il primo grande sforzo diciamo dell'Italia del dopoguerra. È finanziato con denaro americano, nel primo tratto, che è dall'Appia all'Aurelia. E l'impulso, diciamo, alla realizzazione viene direttamente ovviamente dallo Stato. Dobbiamo immaginare un'Italia appena uscita dalla guerra, con ancora il nord occupato dai tedeschi, il sud, gli alleati, eccetera, eccetera. Quindi c'è un impulso forte dato dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici, il cui ministro era l'onorevole Romita, che preoccupato del problema della disoccupazione, specialmente a Roma, c'era un enorme problema legato alla disoccupazione delle masse operaie, perché il paese era fermo, eravamo appena usciti della guerra, decide di iniziare questa opera pubblica, non tanto quindi per problemi di natura, di mobilità viabilistica, non c'era una necessità. E allora con quale obiettivo? Con l'obiettivo di dare lavoro. È un cantiere per dare lavoro, dare lavoro neanche agli operai, perché come ha visto da quella scheda non sono neanche operai specializzati, ma sono barbieri, meccanici, tramvieri, impiegati. Perché a Roma c'era un problema enorme, io poi sono anche andato a rivedermi i giornali dell'epoca, il Paese Sera per esempio, nell'epoca del 45-46, c'era un problema a Roma addirittura anche di sussistenza, non si riusciva a mangiare a Roma. Però a quel punto chi fa questi lavori... E quindi bisogna riattivare un ciclo, bisogna riattivare un ciclo. Il ciclo si riattiva attraverso grandi... è in discussione anche oggi, diciamo la crisi è pesante, ma ovviamente non così pesante come nel 46. Per riattivare un ciclo economico c'è bisogno di costruire. Ma i progettisti dell'epoca, tra l'altro c'è questo, io non l'ho mai capito perché mi sembra una leggenda, no? Il nome Gra deriva anche dal progettista? Deriva dal progettista. Grande raccordo anulare, l'acronimo del... L'estensore diciamo... Dell'ingegner Gra. Sì, l'estensore del progetto, questa figura importante che si conosce poco, anche bisognerebbe scrivere e approfondire, ed è un ingegnere, un ingegnere Gra, Eugenio Gra. E siccome si era distinto, era una persona molto capace, primo presidente dell'ANAS, si era distinto anche prima della costruzione del Gra, perché aveva realizzato per esempio il porto di Bengasi durante l'epoca fascista, e si era distinto per la sua capacità di fare risparmiare lo Stato. Io ho letto, c'è questa lettera bellissima di Encomio del ministro che gli dice lei ha fatto risparmiare l'amministrazione pubblica sul porto di Bengasi, non so, doveva costare mille, invece costò 800, che è una cosa abbastanza inusuale diciamo. E quindi è lui l'ideatore del Gra e quando Gra va in pensione nel 52 il ministro gli dedica questa strada. Io sono confortato e contento che l'abbia ricordato perché non ce n'è quasi memoria neanche su internet andare a cercare, nessuno lo sa, credo. Pochissimi. Parliamo un attimo della... c'è un capitolo in cui lei fa una domanda, c'è un sistema di nuove centralità regionali distinte dalla struttura della città di Roma, qua forse ci ricolleghiamo anche al film, no? E dice l'ipotesi che avanziamo è che frammenti di città disposti lungo il raccordo anulare costituiscano nel loro insieme una struttura urbana in formazione complessa, viva e con caratteri distinti da quelli della città consolidata. Quali sono questi caratteri che distinguono chi vive oltre il raccordo rispetto a chi... anzi lungo il raccordo? Una domanda molto interessante. Il piano regolatore parte da questo, diciamo, assunto. Cioè il nuovo piano regolatore di Roma distingue due tipi di città. Roma è costituita da un nucleo consolidato, il centro monumentale che tutti conosciamo, più una, diciamo, espansione anni 50 che si considera già strutturata nella forma e poi da un insieme di frammenti per cui il piano regolatore stesso parla di città arcipelago. Il piano regolatore è uno strumento di conoscenza della città molto, molto profondo. È stato fatto uno sforzo proprio di lettura della città ingomiabile. Quello di cui però mi sono accorto, studiandolo, è che manca per questa città periferica, questa città arcipelago, mi piace più parlare di città arcipelago piuttosto che di città periferica, un'idea di come in futuro potrà essere. Quali sono i dati? E quindi ho cercato di tirare fuori quelli che secondo me sono i dati caratteristici su cui un progetto per la città arcipelago dovrebbe lavorare. Il primo dato è la sua apertura alle reti ambientali, proprio per il fatto di essere arcipelago, cioè è fatta la città del Gra, come la chiamo io, questa città più esterna rispetto al nucleo consolidato è fatta di tanti frammenti, separati gli uni dagli altri. Questa separazione permette alle reti ambientali di entrare dentro la città, per cui questi nuclei urbani sono come dei piccoli villaggi molto aperti verso l'ambiente e questo è un primo dato di assoluto interesse. Una seconda caratteristica è data dalla dimensione di questi frammenti. Si va dai 28.000 abitanti di Torbella Monaca agli 8.000 di Castelgiubileo, cioè sono dei frammenti piccoli, cioè è molto più difficile intervenire su una grande città, è molto più semplice su un piccolo frammento, quindi altro dato caratteristico è quello dimensionale, sono piccole formazioni urbane. Sia consolidate che anche nuove, no? Sia consolidate che anche nuove, separate che stanno. Il terzo fatto importante sta nel loro grado di trasformabilità, questo lo legge il piano regolatore correttamente, cioè queste formazioni esterne hanno ancora al loro interno aree non edificate o strutture che possono essere trasformate. Mentre la città consolidata, lo dice la parola stessa, è qualche cosa che è bella o brutta, in qualche modo te la tieni, questa parte di città c'è un grande margine per rinnovarsi e quindi siccome... Anche per collegarsi tra di loro, per fare sistema, come ho letto in una recensione su questo libro, ciò che dovrebbe avvenire in futuro. Quello che dovrebbe avvenire in futuro è, allora se tu consideri questi frammenti come l'estrema propaggine di un nucleo interno, questi frammenti rimarranno comunque, anche se li colleghi con tutte le metropolitane che vuoi, cosa che peraltro non è neanche prevista, lontani dal nucleo portante, identitario, quello centrale. Se invece li colleghi fra di loro, con sistemi di trasporto pubblico, con nuovi spazi pubblici, con aree verdi, con servizi, eccetera, invece puoi creare intorno a Roma una corona meravigliosa di piccoli... piccole città satelliti. Ecco, questo in quale città avviene? Parigi? A Londra. A Londra? Sì. A Londra è così, insomma, la sua... A Londra. Chi dovrebbe fare questa parte? Insomma, non spetta... Ovviamente non è una cosa semplice, però è un ragionamento... Visto che qua forse si riesce a fare una parte della Metro C rispetto ai progetti, le finanze sono andato ovviamente, mi sono confrontato con tante persone, perché per poter scrivere un libro ci si confronta con molte persone, tra cui anche gli estensori dell'attuale piano regolatore. E per esempio il professor Marcelloni, che non c'è più, purtroppo è scomparso prematuramente, quando andai a chiedergli come mai non erano riusciti a definire un ambito strategico intorno al raccordo anulare, cioè a mettere a sistema tutti questi valori, secondo gli obiettivi certi, chiari, e lui mi disse, dice guarda c'hai ragione a insistere su questo punto, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti per le difficoltà enormi, cioè immaginiamo anche che è quella cintura dove più forti sono gli interessi, perché è lì che si sta costruendo Roma, no? Non si sta costruendo a Piazza Venezia, si sta costruendo romanina. Si sono seguiti, diciamo, altri interessi. Si sono seguiti altri interessi, comunque non è stato facile, perché per fare questo ovviamente devi mettere insieme degli interessi legittimi, no? Devi cercare di mettere insieme degli interessi secondo obiettivi alti. E questo non è stato possibile. Però non disperiamo. Ma insomma, non disperiamo mai, per carità. Noi tantomeno che qua, ripeto, ospitiamo ogni giorno, ecco, su questo anche veramente racconti catastrofici, no? Insomma, il classico è il cittadino di Casalotti che dice io per arrivare già soltanto al raccordo, insomma, ci metto un'oretta, Boccea, tanti altri quartieri. Eppure lungo il raccordo c'è praticamente tutto, perché se si ci pensa ci sono già due ospedali. Eh, ma infatti alla fine è come se si fosse inseguito, no? Ci sta l'università, Tor Vergata, ci sta praticamente tutto quanto la produzione romana, sta tutto lungo il raccordo. Ci abita un milione di persone, c'è quindi tutto, ma solo organizzato. Ormai anche nel raccordo stesso, no? Lei punta anche sui simboli, sulla nuova simbologia c'è anche il McDonald's. C'è tutto. Si può vivere di una vita autonoma. Le centralità, Ikea, tutto, sta tutto lì. Quindi effettivamente diciamo, culturalmente, secondo lei, ormai, perché ormai sembra ancora, sembra sempre questa l'immagine, avvicinare al centro la periferia, dobbiamo scordarci. No, è sbagliata. Perché è proprio un'idea anche sbagliata. È proprio un'idea sbagliata, perché non potrai mai avvicinare una cosa che è nello spazio lontana. Invece devi creare delle polarità nuove e dare un senso urbano a questi villaggi. Cioè io trovo che Roma, nella sua parte, diciamo, appunto più esterna, l'immagine che rivela è un'immagine molto arcaica. Labbaro è un villaggio medievale, se lo vedi ad una certa distanza. È romanina, se ci entri, non ti fermi al centro commerciale, ma entri nel tessuto, è un enclave molto chiusa che somiglia a una casba. E quindi l'immagine contemporanea è anche paradossale. L'immagine contemporanea di Roma è un'immagine estremamente arcaica e bisognerebbe anche su questo discutere. L'ultima cosa, abbiamo ormai pochi minuti, il Tevere, il rapporto col fiume rispetto al raccordo anulare, perché anche questo credo è qualcosa di interessante da andare a leggere anche ancora nel suo libro. Il Tevere è una grande frattura nella città e ha due situazioni spaziali molto diverse, quando lo leggi appunto nell'intorno del raccordo. La parte nord, l'ingresso nord, è stretto tra la collina di Labbaro e la collina di Castelgiubileo, c'è quasi una strozzatura dove poi c'è la diga, mentre la parte meridionale è molto più larga. Anche lì ci sono due situazioni collinari, il suolo di Roma è una cosa fantastica, indomabile. Sono due situazioni collinari, sono le colline della Magliana da una parte e le colline dell'Euro, le propaggine delle colline dell'Euro dall'altra parte, è una situazione però di maggiore apertura proprio verso la costa. Certamente sono due nodi fondamentali, due fratture anche, perché io riconosco intorno al raccordo la formazione di quattro entità diverse che sono proprio separate dalla presenza del Tevere. Anche l'immagine di copertina, ecco le chiedo architetto perché quell'immagine? Beh è molto significativa quell'immagine perché si vede, diciamo, si può apprezzare in quell'immagine lo spessore temporale dell'infrastruttura, che in quel tratto diventa forse larga 80-100 metri e c'è una prima sezione che è quella originaria che passa accanto alla diga di Moretti, poi c'è un allargamento, un primo allargamento e poi un ulteriore secondo allargamento e questo costituisce una murazione, per torno a quello che lei diceva prima, ma il raccordo che cos'è? È un sistema che serve a collegare o invece una separazione? La risposta non è semplice perché è tutte e due le cose. Beh mi sembra bello anche concludere così, anzi ci ha dato la possibilità oggi di volare molto alto sul raccordo dal punto di vista di uno studioso come lei, molti si saranno chiedendo la domanda, immagino terra a terra, ma per velocizzarlo un po' questo raccordo a livello di traffico dovremmo essere di meno presumo? Beh io so dall'ANAS, ho passato tanti mesi all'ANAS e mi dissero che un allargamento non è più possibile. Ah ecco, beh questa mi sembra una cosa molto interessante. Quindi bisognerà pensare ad altri modi per velocizzarlo, allargarlo non dappertutto, perché non è più possibile, non c'è più lo spazio fisico, semmai sopraelevare o fare altro. Ma soprattutto io direi puntare sul trasporto pubblico, lì andrebbe realizzato lungo l'anello, un trasporto pubblico, un tram, un tram veloce, no? Perché sappiamo che più si allargano le strade e più traffico avremo. Ebbè questo ci porterebbe il futuro, già soltanto immaginare quello che lei oggi ci ha raccontato, l'inserimento di percorsi pubblici, di trasporto, insomma sarebbe forse la vera rivoluzione. Ripeto, la città del grande raccordo anulare, Gangemi Editore, Marco Pietrolucci che oggi è stato con noi, un libro da tenere, ecco chiudo facendolo di nuovo vedere, anche perché io penso sarà molto bello, semmai tra vent'anni, i figli lo vanno a riprendere e dicono cosa è successo, speriamo bene. Grazie a te, grazie a lei.